buonasera e bentrovati all'Ali Cauli per questa partita importantissima di campionato tra il San Giorgio Piana e il Castel Termini San Giorgio Piana e Castel Termini che si ritrovano contro subito dopo il doppio confronto di Coppa che ha visto i rossoneri passare il turno ma oggi è tutta altra storia si parte dallo 0 a 0 duro duro giovenco 1 2 che si concretizza ancora duro sul fondo la palla in mezzo attenzione il tiro Ciancivino la sblocca subito Ciancivino la sblocca subito Ciancivino questa è stata la prima a fondo una bella azione 1 2 giovenco duro in velocità palla in mezzo vedere San Giong che la controlla Giovenco il cross in mezzo e poi attenzione il colpo di testa ancora di Ciancivino per serio serio salta l'uomo attenzione 4 contro 4 serio si gira serio cerca il 10 il tiro attraverso incredibile la palla rimane lì tanto Ciancivino per serio attenzione scappa dall'altra parte Sanè 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 salta l'uomo Sanè cosa ha sbagliato San Giong attenzione serio bella la palla in profondità per duro si va a vedere pure Ciancivino è un camiolo duro in mezzo Sanè Sanè lo mette dentro ed è 2 a 0 secondo assesi duro Giorgio un 2 a 0 meritatissimo 2 a 0 di Sanè che trova il gol meritato perché sta facendo una grande partita Sanè attenzione intanto la palla lunga che rimane in aria Tarantino di testa riesce a metterla fuori ancora Belmonte qui bravissimo Belmonte lascia Giovenco e possiamo ripartire ha problemi quando invece il risultato è perduto attenzione come parla per Jack per Sanè Sanè la mette in mezzo messo Ciancivino che però riesce a controllarla duro per Camiolo Camiolo la mette giù Camiolo che può puntare c'è Jack serio ora per Jack serio che si può girare al limite dell'aria tiro di Jack traversa di nuovo incredibile serio da fermo è qua la parata anticipato Zappula può ripartire Castel Termini ancora con il numero 14 Sergio che va a pressare attenzione numero 6 in aria il destro incredibile ripartenza del Castel Termini Giorgio vicinissimi al gol dell'1 a 2 lo può salire il treno è partito la mette in mezzo Giovenco dove c'è Fabrizio Montoro di testa palla salvata sulla linea incredibile attenzione poi lì un contatto bravo che duro che è possibile di partire 3 contro 1 3 contro 1 Sanè duro Jack serio cosa è il numero 5 palla di Sanè per Sergio che sia tu per tu Serio 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 inchino la curva di Jack serio è 3 a 0 capire Rubino alza la testa perché cerca questa palla verso Serio oh Porcelli che palla per Serio Porcelli Serio chiude ancora il numero 4 questa volta c'è una giocata impossibile la palla per Porcelli Porcelli ottima la palla su Spina scivola la palla per duro cerca il destro ed è gol che gol di duro meritato ed è gol ed è gol non abbiamo più dubbi Giorgio uova partita duro uova partita duro ha superato Romano bel tross di Romano la mette in mezzo palla messa fuori da Casteltermini fischia l'arbitro triplice fischio dunque finisce 5 a 0 per la squadra di casa e San Giorgio batte 5 a 0 il Casteltermini è una partita che non senza senso